Rieccoci, buon venerdì a tutti, breve aggiornamento. Allora, arriva il 90 a Genova ieri sera, perché il 90, i primi tre strati, come vi dico da sempre, della Nazionale, si vanno a ripercuotere su Genova, Milano e Napoli. Allora, il 90, specialmente i primi due strati, anche il terzo strato, ma i primi due strati, poi camminano a Genova per la prima andata, diciamo, no? Quindi, il 90 è arrivato a Genova, al primo colpo, vedete? Ma attenzione, attenzione, quindi nonostante ci sia stato il 90 a Genova, il 90 comunque va a Palermo. Le condizioni ci sono, è inutile che levo Palermo, perché vi faccio vedere il perché. Somma, 90, quinti estratti, Palermo-Roma. I quinti estratti e i terzi estratti, ve l'ho sempre detto, sono fra i migliori per la sortita di un numero. Quindi, attenzione, cadenza è simmetrica, quindi c'è una cadenza, quindi molto molto bella su Palermo e Roma, è meglio una cadenza che una semplice somma. Quando la cadenza è isotopa, ruote unite e di cadenza, la sortita dovrebbe essere veloce. Quindi, attenzione, è inutile levare Palermo, perché Genova è arrivato, ma attenzione, questa somma, 90, potrebbe fare la differenza. E poi c'è la somma Bari e, attenzione, ritorniamo indietro, questa fa pressione ancora su Palermo. È inutile togliere la ruota di Palermo, quindi c'è la condizione del 90, somma 90, c'è la condizione del Bari e allora questa è la classifica che rimane sempre. Bari, Palermo, Roma e Torino. Attenzione al Palermo-Roma, al Palermo-Roma perché c'è la somma 90, quinti estratti, quindi lascio tutto com'è. Bari, rimane tale quale, è ancora Torino. Vediamo cosa succederà. Quindi, la condizione invece del 68, guardate qua, quindi l'ammata contata è presente ancora una volta su Palermo, scende a Venezia e Bari, il doppio 68 come somma X2. E allora ragazzi, si va avanti, siamo a 5 colpi questa sera, speriamo che entro un limite di 7-8 colpi, dia esito. Ma già questa, dovrebbe già dirla tutta, guardate, lo facciamo rivedere tutti? Sì, li facciamo rivedere tutti. Allora, 68, il primo indizio con la somma X2, poi tutte le somme, 68, ok? Il doppio 86, quindi 68 e doppio 86, poi 86 ancora una volta e poi di nuovo 68. Mi state chiedendo, in tanti, ma possiamo giocare l'ambo vertibile 68-86 Bari-Venezia come ambo e ambetto? Ovvio. Se volete dare, mettere il 90 anche su Bari con questa giocata, mettetelo. Mettetelo perché il 90, se si è sulle ruote di Bari con 68, quindi con gli stessi numeri che vi ho dato, bene, ok? Quindi se volete fare anche un ambo separato 68-90, 86-90, fatelo, siete liberissimi di farlo. Ma, allora, anche per quanto riguarda il 28, fate una lunghetta con il 28 e poi se volete aggiungere il 90. Tutta la cinquina così com'è, 28-33-36-68. Però questa, vi ripeto, a parte, perché se escono proprio quelli, si va a beccare di più. E quindi una cedolina a parte, io la consiglio. Anche un euro di ambo, 50 centesimi di terno, una spesa minima, e poi farete voi il resto. Oppure 80 centesimi di ambo e 20 centesimi di terno. Ma queste strapolatela da sola, perché potrebbe dare terno secco, specialmente a Bari. Perché la condizione è fortissima, è vero che c'è anche Venezia, che anche se è uscito il 33 non vuol dire nulla. Ma il 33-36-68 specificato per Bari, ma può arrivare, come è successo con il 17-80 su Venezia, vi ricordate che era su Bari. Ma poi è sceso sulla ruota gemella. Quindi, questa giocata, Bari e Venezia a parte, mi raccomando. Poi, tutta la lunghetta anche su Bari, col 28, e se volete fare una bellissima cosa, 28-33-36-68-90 Bari, perché il 90 è atteso su Bari. Oppure anche 68-90, o 68-86-90 Bari-Venezia, fate come volete. Però questa qui non tralasciatela, perché è fortissima. Poi l'aggiunzione del 90, eccetera, eccetera, saranno cose vostre. Io però vi dico già, che quando ci sono queste condizioni, la previsione è, e sta diventando, veramente tosta. Veramente, se non esce questa, io non so cosa dire. Perché una condizione così, carica di indizi, carica di situazioni come queste, portano al risultato. Anche solo da l'ambata, ma deve arrivare qualcosa, perché così è impossibile che non ne esca nulla. Già a Monte ci sono già le ambate, ci sono già le somme, figuriamoci un po'. Poi c'è la doppia condizione, con somme X2, che non dovrebbe lasciare via di scampo. Ci risentiamo a questa sera sul Tardi, quindi questa. 33-36-68 Bari-Venezia, se vuoi. Quindi, Ambo Eterna, come vi dicevo, cedo la parte, ve lo ripeto ancora una volta. Poi, Lunghetta, così com'è, anche su Bari. E poi, se volete aggiungere il 90, fatelo. E l'Ambo Vertible 68-86, Ambo Ambetto, si può fare anche quello. Ci risentiamo. Da Marcus è tutto, la classifica integrale allora rimane tale quale. Proprio perché c'è la somma fra Palermo e Roma, i quinti estratti di cadenza simmetrica. Meglio cadenza simmetrica come somma, che come somma semplice di Ambo. Quindi, meglio una cadenza simmetrica. Ci risentiamo da questa sera. Da Marcus è tutto. Buon pranzo e ci risentiamo poi più tardi. Ciao, ciao, ciao.